ciao per il mondo della skin care allora oggi vi voglio parlare della ultra repair cream della mi amo allora questa è una crema viso corpo idratante lenitiva e studiata apposta per le peli sensibili irritate dai fattori esterni come può essere il sole il vento eccetera io ne voglio parlare perché questo prodotto non deve assolutamente mancare d'estate insomma dopo quando uno sta tutto un giorno in spiaggia oppure in piscina assolutamente la sera è da usare questa allora è una crema che andrà a lenire i rossori le irritazioni aumenterà l'idratazione e andrà a ristabilire l'integrità della barriera cutanea all'interno troviamo un sacco di attivi adesso io ve ne dico qualcuno contiene estratti di camomilla di aloe vera ceramidi antiossidanti a dei principi attivi strepitosi favolosi e anche gli antiossidanti in più andranno ad aiutare a riparare eventuali danni uvi indotti e andrà anche a proteggere e riparare il dna esatto tutto questo in questa crema allora un'altra cosa molto importante è che questa è una crema sia viso che il corpo quindi la potete utilizzare come dopo il sole oppure come una crema idratante perché ricordiamoci che l'idratazione non riguarda soltanto la pelle secca e sensibile riguarda tutti i tipi di pelli no poi ognuna avrà le sue caratteristiche le sue problematiche però l'idratazione ricordiamoci che serve a tutti i tipi di pelli ok quindi io dico che questo non deve assolutamente mancare perché questa è una crema che ci dona questa sensazione di morbidezza di pelle che non tira soprattutto chi come me ha la pelle secca che tende comunque a sfamarsi questa ci aiuta d'estate a non avere questi tipi di problema poi in più se dovreste doveste avere anche il problema di eritema solare questa è assolutamente da usare in più è fantastica perché la possono usare anche i bambini quindi quando andate al mare oppure in piscina dopo questa la potete applicare sia sul viso che sul corpo adulti e bambini quindi questa crema non ha età non ha sesso è adatta a tutti vi faccio vedere com'è allora si presenta in questo modo parliamo di un 150 ml all'interno è un tubicino è così ha un profumo che si sente già dalla confezione però non è persistente allora vi dico che forse chi ha la pelle grassa magari dovrebbe metterne un ciccinino in meno io che ho la pelle secca quindi chi come me ha la pelle secca le può abbondare tranquillamente però mi raccomando sul sulla pelle pulito ovviamente poi vi faccio vedere com'è per me mi è volata la crema ok allora per me è una consistenza favolosa vedere io sono un po truccata sugli occhi ma vi faccio vedere non è non è pesante per questo profumo buonissimo si assorbe subito la potete massaggiare finché non sentite che la pelle la assorbita insomma lo potete mettere anche sul corpo tranquillamente sicuramente questo è uno di quei prodotti che non deve mancare insomma d'estate quindi ecco vi ho voluto far vedere questo prodotto che io in questo periodo utilizzo tanto la sera più che altro perché magari quando faccio una giornata al mare oppure in piscina la mia pelle ha bisogno di essere idratata perché comunque ha subito il sole anche se io personalmente non sto esposta direttamente sto sempre all'ombra io col mio cappellino però ho bisogno di idratazione e vi dico che questa è veramente favolosa in più se vi doveste anche arrossare oppure bruciare col sole dall'esposizione anche se avete messo la protezione solare questa sicuramente è da utilizzare questo un ottimo prodotto sicuramente non deve mancare nella vostra valigia poi pensate anche un'altra cosa un prodotto per tutti meglio di così non si può quindi non state neanche a portarvi dietro 10 mila prodotti ne basta uno per tutti quanti quindi questo è il prodotto di questa estate diciamo sicuramente non deve mancare spero di avervi fatto vedere un prodotto utile vi mando un bacione alla prossima